Bolognola è il comune più alto nelle Marche e si trova nel cuore del Parco dei Sibillini, il suo borgo, come altri, devastato dalle scosse del 2016. Ora, un anno dopo, la situazione è migliorata, ce lo conferma il primo cittadino, Cristina Gentili. Abbiamo tolto tutte le zone rosse, quindi siamo riusciti a riaprire quello che in realtà il 30 ottobre era completamente chiuso, quindi tutto il paese. Abbiamo iniziato la ricostruzione perché stiamo ricostruendo già lo stabile di proprietà comunale dove ci si andranno gli uffici e due appartamenti in sostituzione delle SAI. È stato appena, non appena, abbiamo qualche giorno che è stato già presentato il progetto, quindi a breve dovrà arrivare il finanziamento per la ricostruzione di altri otto alloggi. Abbiamo dato in appalto la progettazione per l'altra struttura di proprietà del comune, che è Palazzo Primavera, quindi diciamo che tutto sommato, un anno dal sisma, siamo senza zona rossa e con la ricostruzione ripartita. La forza e la risorsa di Bolognola sono i suoi impianti sciistici, infatti Pintura ne vanta 6,10 km di piste per tutti i livelli di difficoltà, tante le iniziative presentate da Natale a Capodanno, da Carnevale a Pasqua. Diciamo che l'anno scorso è ripartito all'ultimo momento perché purtroppo abbiamo potuto riaprire la strada dopo il 30 ottobre solo a fine novembre e quindi diciamo che è stata una ripartenza in fretta e in furia. Quest'anno sarà una ripartenza programmata e il motivo oggi della conferenza stampa è proprio far capire che nonostante tutti i disagi e quello che ha creato il terremoto perché comunque Bolognola ha notevoli danni in paese invece Pintura è completamente agibile e quindi ci sono strutture ricettive agibili e gli impianti sono agibili e quindi si può ripartire fondamentalmente noi, la nostra economia, il turismo e l'agricoltura quindi è importante far sapere che nonostante i disagi ci siamo.